Barbara d'Urso, l'amore è la cosa, che più mi manca, Barbara d'Urso desidera trovare l'amore settimanale oggi ha nominato Barbara d'Urso donna dell'anno e le ha dedicato un'intervista in prima pagina. A quanto pare la conduttrice si è lasciata sfuggire un'importante rivelazione, quella di desiderare l'amore nella sua vita, la d'Urso è single da molto tempo, si dedica alla carriera conquistando sempre nuovi successi con i suoi programmi. Lei stessa ha confessato che l'amore è ci, chi le manca di più, vorrebbe infatti innamorarsi perdutamente di un uomo, che la ricambi allo stesso modo, la conduttrice ha ammesso che la sua età la frena, infatti non riesce a lasciarsi completamente andare quando viene corteggiata. Al posto suo molte si farebbero corteggiare solo per divertirsi, ma i suoi valori le impediscono un comportamento di questo tipo, ha poi puntualizzato, che per lei giocare e basta sarebbe davvero ridicolo. Barbara D'Urso spiega il motivo del suo successo Barbara D'Urso ha conquistato molti successi in casa Mediaset, lei stessa ha spiegato come riesce a battere sempre la concorrenza. La conduttrice ha fatto sapere che l'impegno e la fatica pagano, inoltre a parer suo hanno capito cosa vuole il pubblico, per quanto riguarda Domenica in ha dichiarato, noi siamo più forti perché mi sono cucita addosso il mio mondo e quello della gente, che sta a casa. Intanto la D'Urso sta pensando ad un nuovo progetto con Mediaset, queste le sue parole, non avrei fatto il capodanno di Canale 5 e non farei mai il grande fratello, invece, siccome l'azienda ci tiene a fare un prime time con me, ne stiamo studiando uno con un'idea nuova. Grazie